Ciao a tutti, bentornati sul canale, oggi continuiamo la Carly Legacy, Jasper sta mungendo burrita bene bene bene, le stava ripulendo il capanno, aggiungendo il mangime mentre Lily ha appena finito di fare colazione in realtà con il parfait e adesso la volevo mandare a fare del giardinaggio ma guardate un po', ci sono tutte le piante ritirate e non capisco il perché, perché è solo di stagione, quindi non lo so e intanto ragazzi non abbiamo più soldi perché ho comprato le fioriere e vorrei iniziare a dar vita un po' a questa serra adesso è brutta così come la vedete, è brutta però poi avrà un senso, magari la stringerò un po' però insomma voglio metterci poi anche il tavolo per le composizioni floreali e poi varie decorazioni però nel frattempo vorrei fare con voi, innanzitutto abbiamo ancora questa cosa qua di innestare le piante ma col fatto che mi si sono ritirate non capisco perché è anche la pianta del denaro, guardate secondo me è perché sta per arrivare l'estate e quindi non vorrei che fosse per questo motivo comunque ho radunato qui le varie piante, ho messo qui da solo solo la pianta, il fiore di acconito perché non ho capito ancora cosa serva ma vorrei fare doppie piante quindi qua infatti abbiamo già qualcosa, tulipano, bucaneve e tulipano quindi qua dovrei piantarci il bucaneve, solo che non ce l'ho perché è nuovo il bucaneve, quindi niente, andiamo avanti qui invece abbiamo il cespuglio di rose e quindi ci mettiamo la rosa, vieni qui e pianta poi la dallia non ce l'ho, quindi andiamo avanti il rosa di natale non ce l'ho, il crisantemo non ce l'ho più perché l'ho terminato e poi la margherita, piantiamo la margherita poi che cos'altro, la pianta di campanule e poi c'è tutto da innaffiare, fertilizzare, vedete qua già crescono abbiamo il croco e la bocca di leone meno male ragazzi perché se no non crescevano più il cespuglio di agrifoglio, di agrifoglio ne abbiamo solamente uno il giglio, purtroppo abbiamo solo quello perché poi li ho utilizzati per fare le mie composizioni floreali quindi niente quindi già che ci siamo, innaffiamo, fertilizziamo, fertilizziamo con il prezzemolo che intanto non lo usiamo praticamente mai o anche, no la margherita no scusami fertilizza con la fragola, la carota, fertilizza con tutti questi ortaggi, va benissimo fertilizza, carota, questo non mi ricordo se te l'ho già detto fertilizza, mentre c'è Jasper che stava appunto pulendo qui il capanno poi anzi prima di andare a pesca perché lui vuole andare a pesca ragazzi sì domani è il primo giorno festivo fatti pure una doccia e ah ragazzi l'ho trovata poi la decorazione era finita nell'inventario di famiglia qua abbiamo sempre i nostri vari conigli che oh siamo pieni di regali prendiamo il regalo, ma questo è nuovo ciao coniglio selvatico fiocco, che bello, sei anche bianchino ciao che bello che sei racconta una barzelletta e casomai lo faccio pescare oggi quando andiamo in città tanto comunque c'è il festival, io ci andrei vediamo se abbiamo altro da ottenere no, però discuti anche con i vari conigli prendi pure il regalo da zompo anche qui dagli uccellini ottimo perché vedete lui vuole pescare quindi oh c'è mamma, ciao mamma vabbè dai socializza anche con lei dopo vieni qua e socializza chiedi dei valori della proprietà ok, no 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 no, aspetta che non ho mica finito con te vieni, dobbiamo fertilizzare eh dobbiamo continuare guarda, fai anche innaffia tutto delle piante magari, ecco che abbiamo appena piantato questa si è da fertilizzare con il prezzemolo facciamo tutto ragazzi, sperando che crescano queste piante perché ci siamo svegliati così praticamente io non so cosa sia successo un uovo verde, wow fertilizza e ci abbiamo anche il limone, fantastico oggi ragazzi c'è la gara delle torte e i prodotti abnormi che purtroppo ancora non abbiamo e con Jasper però vediamo di tirare su queste piante abnormi o non lo so come saranno continuiamo la nostra fertilizzazione perché anche fuori ragazzi, vedete cioè devono ricrescermi tutte le piante guarda, se proprio vuoi dammi una mano intanto da far evolvere qui va bene ah, non si può innaffiare lama arcobaleno wow, che bello questo bellissimo adoro allora, le bottiglie mettiamo in frigo così come le uova ok e poi vediamo di preparare una torta per oggi vediamo qui come stanno allora, vedete c'è da estirpare e poi qua non possiamo fare niente acqua neanche incoraggia abbiamo già incoraggiato recentemente oh, cosa è successo? ansia e incombente sì, sì, non ti preoccupare allora con quale torta partecipiamo? vediamo vediamo di cucinare una torta ah, vediamo per abilità ah, abbiamo già l'abilità 9 interessante eh, ci sarebbe quella torta di mele lì che però non abbiamo le mele torta di zucca fa molto autunno ma io andrei di torta ripiena di frutta ma sì dai, ci sta ad estate vai, torta ripiena di frutta sperando si possa partecipare con quella tipologia di torte ah, intanto che ci siamo ragazzi vieni qui da Burrita perché voglio aggiungerle anche per lei questo vestito professor Mugitissimo quindi come si fa? veste Burrita con questo è che marrone su marrone probabilmente si vedrà poco quindi magari non appena abbiamo qualcosa di colorato ma devi mongerla non l'hai monta oddio è bruttissimo è bruttissimo aiuto ragazzi no, le sta molto male dai eh, vabbè niente fa lo stesso ok, qua niente qui non vogliono crescere non vogliono crescere oh, questo è andato a male che peccato abbiamo fatto la torta sembrerebbe di sì ok fantastico abbiamo la torta wow mettiamocela nell'inventario e io direi che ci dirigiamo direttamente ah sì qua le ho fatto fare un po' di composizioni floreali e sono andata avanti con la collezione delle immagini siamo arrivati fin qua io direi ragazzi che possiamo andare così magari possiamo estirpare le vacce o comunque far pescare Jasper per un'ora e fare altre cose prima che arrivi poi il festival che abbiamo detto arriva oggi alle 15.30 oh in realtà abbiamo sì un paio d'ore ma sì dai andiamo ci cambiamo di abito fa caldino quindi con lei ci mettiamo questi proprio da campagna mentre con lui ci mettiamo quelli da caldo benissimo direi che siamo pronti non devo prendere su nient'altro tra l'altro lei come assegnazione lavorativa vedete deve regalare una composizione floreale quindi direi che possiamo andare dai andiamo in città a fare le nostre cose allora arrivati direi che Jasper guarda ti metto a pescare visto che volevi tanto pescare per un'ora ti mettiamo qua dietro come al tuo solito vieni qua a pescare con l'esca così mi vai avanti anche con l'aspirazione vai con la carota mentre Lily intanto che aspettiamo di candidare la proposta andiamo ai negozietti perché dobbiamo cercare qualcosa di nuovo quindi contratta perché abbiamo 323 simoleon assolutamente ah oggi c'è la signora Agnes vedi di non farti prendere un'altra una borsettata e vediamo di contrattare ma credo che non ci non ci venderà al prezzo ridotto eh no infatti no 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 dobbiamo farlo quando c'è la signora Agatha oh invece sì ma grazie allora compra articoli scontati forse ci ha visto così poveri così non lo so comunque l'avocado che ci serve allora andiamo sui fiori direttamente perché la begogna esatto ci manca io c'ho sempre il mio taccuino qua sotto poi la dahlia l'abbiamo ci manca l'orchidea e l'uccello del paradiso che però se non erro avevamo detto di farlo mediante l'innesto quindi siamo riusciti a prendere la begogna perfetto qui niente però vorrei vedere di qua esatto allora l'avocado lo prenderei perché se non erro ci manca l'avocado sì esatto l'avocado sì poi tutte queste bacche speriamo di prenderle in come si dice nella giungla poi la ciocco bacca ce l'abbiamo sì e la cipolla idem poi queste conserve il fagiolino di soia ci manca così come anche il fagiolino ovviamente vado per per quanto riguarda la collezione il fungo verdeggiante la maionese la mandragora l'avevo presa? forse no no la prendo sempre per quanto riguarda la collezione ok poi qua abbiamo tutte di quelle conserve la morla l'alloncio di cocco questa roba mi sembra che è la roba che abbiamo poi di particolare ah vedete abbiamo il fertilizzante pratico e la crescita super veloce io aspetterei faccio un attimo le prove perché se no mi perdo qua abbiamo i vari telai qua abbiamo i semi però niente di più e qui abbiamo cresci frutti no basta ok grazie signora Agnes dovremmo avere scoperto un po' di roba esatto esatto guardate tutta questa roba qua è stata scoperta meno male fantastico veniamo anche di qua ma in teoria qui non dovrei comprare niente ah vabbè ok si sempre un po' le soli il pescino qua dovremmo avere tutto il globo lucente non mi ricordo mai se l'abbiamo però ormai non abbiamo più soldi no facciamo così fa lo stesso per oggi perfetto allora sapete cosa facciamo intanto che aspettiamo vieni qui lui lo lasciamo pescare così è bello tranquillo è felice visto che dobbiamo regalare una composizione floreale chiamiamo Gloria visto che è qui nei dintorni quindi invita nell'otto attuale intanto che aspettiamo che allestiscono abita proprio qui lei oh abbiamo preso una trota abita in questa casa qui che appunto vi ho fatto vedere un po' di tempo fa al al mio save file è molto carina ragazzi adoro questa casina benissimo quando si farà vedere Gloria le possiamo regalare la composizione floreale nel mentre vediamo dov'è c'entra eccola qui è proprio qua dietro ah no è qua dentro dentro proprio vieni vieni qui a salutarla veniamo a salutare quindi chiedi il giorno delle nozze perché lei invece è sposata abbiamo visto che è sposata o meglio forse non me l'avevo fatto vedere quindi apriamo il profilo vedete è cugina finalmente mettono queste cose delle relazioni e il coniuge è Lucas e lei è diplomata e lavora nella carriera freelance come artigiana adesso vediamo se riesco a farglielo dire dunque entusiasmati per il giardinaggio non c'è chiedi il lavoro vabbè fa lo stesso questo che cos'è ispirazione del giorno delle nozze che tenerezza è davvero bello assistere a un simile amore ok vieni che partecipiamo Lily vieni vieni qui allora qua immagino il prodotto agricolo abnorme mentre qui la torta quindi cambi no non è una torta da gara non ci credo devo rifare tutto vieni qui allora e facciamo con quello che abbiamo purtroppo niente me lo devo aspettare una roba del genere però si chiama torta per me è una torta dai niente dobbiamo rifare tutto vabbè facciamo la torta di mele anche se non abbiamo la mela però mi ha fregato questa cosa qua vabbè niente tu mettiti a fare la torta che poi la candidiamo lui invece qui ragazzi che pesca tranquillo quando stiamo andando avanti fantastico abbiamo intanto preso sei esemplari di qualità ottima cioè quattro in realtà una trota persico trota e il pesce gatto che già tutte cose che conoscevamo in realtà quindi vediamo se riusciamo a prendere qualcosa di buono vuoi ah guarda il lato positivo niente non si può fare perché appunto non sei felice forse amo la pesca bella preda ok vediamo se hai trovato qualcos'altro no comunque c'è una bellissima giornata oggi benissimo ok hai trovato un pesce rosso un pesciolino rosso ok benissimo dimmi che l'hai fatta no la devi impastare beh certo ma questo ricordi in scatola è perché appunto ve l'ho detto che ci aveva portato il cavallo vedete un regalo scatolinare ci aveva portato proprio un pacco a casa e quindi si era sentita boh felice in quel momento non lo so dai che voglio candidare la proposta che non c'è nessuno e questa zucca media ok zucca media qui abbiamo Scott si Simon Scott lui cosa rappresenta un'anguria gigante madonna ma questa è enorme 56 chili cioè 50 chili questa 9 e mezzo si Lily ti prego l'hai fatta vero si bravissima bravissima vieni 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 che partecipiamo vieni qua che sta arrivando già il sindaco vieni che partecipiamo wow è uno dei prodotti agricoli enormi esatto candida pure la proposta Erika no il figlio non lo voglio il figlio e poi tu basta che devi venire qui a fare la foto a tua moglie cioè la tua futura moglie con la proposta candidata ovviamente torta di mele mi sa che quella anguria giga enorme mi sa che vincerà e questa concorrente confidante benissimo bravissima visualizza la proposta in gara si si visualizzala la proposta e vieni qua poi che ti facciamo una bella foto salve lei si candida ecco una torta che è stata fatta con amore che bello cosa hai visto una torta di meringa al limone com'è questa normale però la nostra la nostra è eccellente yuhu e niente quindi aspettiamo nel mentre ho visto qui una ecco una torta che è stata fatta con amore eh lo so lo so cara mia no questo è un albero da frutto eh lo so cara lo so che la mia torta è bella dai allora stai qui vieni qui che voglio farti appunto la foto no ma ti devi girare girati basta giocare girati che lui verrà qui e ti farà la foto eh no forse ci riusciamo aspetta sì però uh però mi devi cambiare posa è lì lì eh una foto rilassata ma non così ecco così già mi piace perfetto guarda che bella la facciamo una foto piccola ok in piedi com'è meglio così e allora la facciamo anche una media perfetto anzi scattiamo va perché magari vengono male benissimo bravo amore puoi guardare anche tu visualizza la proposta in gara esatto vediamo come sono venute queste foto spero decenti ma come uno ma come uno sei sette ok sono venute meglio quelle grandi va bene penserò a questa impressionante proposta per il resto della fiera non mi lascerò intortare dalle altre o hai freddo hai ragione abiti mettiti pure il giacchetto anche tu hai freddo no tu stai particolarmente bene però effettivamente mettiamoci il giacchetto per uscire ok ok particolarmente felici di prodotti agricoli sì solo questi qua perfetto c'è Sara vediamo se possiamo fare delle commissioni se possiamo sbrigare delle commissioni amichevole offre aiuto visto che ci dà la possibilità sfruttiamola ok bevanda simbolo che poi ah questa è Sara Scott ma questo è il solito pacco no non c'ho voglia di farlo Schaffer vabbè il mio pub ha riscosso un certo successo ma sono sempre in cerca della novità del momento e credo di aver individuato una nuova entusiasmante bevanda che potremmo proporre qui e solo qui ma la gestione del pub mi porta via molto tempo e potrebbe farmi comodo una mano che ne pensi ok la ricetta di una nuova bevanda ingredienti da cucina e un pasto appena preparato va bene dai è tutto buggato ragazzi questo gioco però va bene ok cosa dobbiamo fare consegna un mirtillo selvatico un lampone mi sa che abbiamo tutto no la ciocco bacca mi manca la ciocco bacca di lì non ce l'ha non ce l'ha la ciocco bacca niente comunque dove sei Gloria che ti devo dar ma come sei andata via ma volevo regalarti la mia composizione floreale vieni qua torna ho scoperto che a lei piace il grigio quindi vedo se ho una composizione floreale sul grigio e direi che gliela possiamo regalare sì tipo queste qua che poi è bianca però alla fine è grigio va benissimo aspetta allora vediamo di regalarle subito la composizione oh entusiasmati per il motivo floreale e assolutamente dai il regalo dai la composizione floreale le diamo dai le margherite margherite poi dopo ti dirigi in bagno vieni pure in bagno mentre con noi vediamo di fare un motivo appunto a croce un altro così per la gioia e vediamo cosa possiamo iniziare ricamba da motivi natura ma questo è il nuovo facciamo un telaio medio la zucca però mi costa accidenti no raga devo stare sim animali telaio piccolo mi viene a costare tanto caspiterina niente mi sa che non costruiamo niente perché appunto non ho non ho soldi ok adesso abbiamo soldi non so ah perché ho regalato la composizione floreale bene bastava aspettare e quindi telaio medio cosa facciamo io direi di fare la zucca così utilizzo anche la lama la lana marrone vai con la zucca vai 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 mi piace questa cosa mentre tu oh ma che carini sono stati simpatici vero si cosa vuoi fare con lei va bene si avete socializzato abbastanza ora scusami ma devo andare in bagno hai realizzato qui si si che li hai realizzati no allora ti faccio bere una bevanda visto che le altre forse non riusciamo a farle quindi vieni qui e ti prendi una bevanda la notte dei single perché effettivamente voi siete ancora non sposati fidanzati ma non sposati e ti prendi una roba che costi poco facciamo un bicchiere di vino dai quello di granite forse che tanto ti piaceva non c'è niente allora andiamo con effervescente alla frutta intanto che aspettiamo i risultati finali lui invece qui ragazzi che fila 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 guardate che bello questo con la zucca secondo me c'è uno tra i migliori credo bene così intanto mi va su anche l'abilità tra l'altro che livello ce l'abbiamo beh livello 3 adesso non so effettivamente ripeto com'è la collezione però siamo per poco con la pesca allora in teoria dovrebbero arrivare i risultati adesso della gara quindi vediamo se siamo stati così fortunati da vincere oppure no il festival ah tra un'ora va bene tra un'ora termina lui ha solo fame intanto vedo che c'è sua sorella qui vabbè lasciamola lì non lasciamo finire insomma lasciamo finire un po' tutti però ti avevo chiesto se prendevi ecco esatto bevi pure e socializza con Gloria guarda tanto ce l'hai qui tua cugina e discuti appunto di queste paure ecco esaudisci pure il desiderio ma devi andare vicino al tuo futuro marito ma proprio di fianco ok perfetto a questo punto com'è che si fa aspetta cin cin no però era dunque ecco qua discuti delle paure perfetto lui l'ha terminato ossia appunto ma che bello vediamo l'ha finito metti nell'inventario ma è bellissimo ragazzi anche di questo ci faccio un la coppia da muro perché è troppo bella crea una coppia da muro mamma mia è bellissima adoro 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 questa zucca ok abbiamo terminato praticamente stiamo aspettando solamente i risultati guarda giusto perché voglio che mi aumenti l'abilità e che tu vada avanti con l'aspirazione continua a pescarmi sempre con la carota dai invece con Lily appunto aspettiamo il termine del festival ah e ovviamente sciogliamo il gruppo ok oh qua ragazzi è tra fiduciosa molto fiduciosa paura dominata perfetto è anche ispiratissima mamma mia benissimo mi sa che questa torta di mele ce la mangiamo a casa se ha riscosso un buon successo guardate eccolo qui guardate questo è Lucas è il marito di Gloria ecco così avete anche il quadro generale un'ultima cosa che vorrei fare è di discutere di allargare la famiglia nooo abbiamo perso non ci credo non ci credo non ci credo pensavo di sì abbiamo ottenuto un nastro di partecipazione e della farina ok e quindi ragazzi abbiamo dato l'input abbiamo dato l'input a Gloria vediamo di magari allargare questa famigliola ok quindi vabbè tu rimani qui vediamo Jasper cosa sta facendo niente aspettiamo l'ultima preda e poi andiamo a casa a mangiarci la torta e l'abbiamo completata ora bisogna collezionare 20 tipi di pesci e conseguire il livello 10 di pesca quindi non dobbiamo fare altro che pescare perfetto a questo punto direi che ci possiamo tornare a casa però volevo cercare di mandare avanti questa commissione però vedo che già possiamo farlo la prossima volta sì anche perché domani inizia il primo giorno estivo e casomai magari fare un salto al al mare farsi proprio un giorno una giornata al mare comunque dai torniamo a casa che li faccio mangiare e magari continuiamo con le nostre abilità e attività ed eccoci quindi tornati a casa ovviamente il pasto con la torta ripiena che ovviamente non ha potuto partecipare alla gara del non si sa perché quindi niente lo mettiamo in frigo adesso e per il resto mettiamo in frigo anche i pesci magari proporrei una delle prossime volte di fare un mercatino perché abbiamo bisogno di soldi quindi adesso andiamo a controllare magari il giardinaggio comunque il giardino c'è da appendere quello con la zucca ragazzi lo metterei qua di fianco al pudding che poi tra l'altro è medio sono medi entrambi anche perché è mezzanotte però devo dire che loro stanno piuttosto bene anzi benissimo magari tu fai un salto in bagno com'è qui? niente niente tutto tace tutto tace le galline sono sveglie qui abbiamo un coniglio che è entrato dentro alla serra e anche qui ragazzi tutto tace cioè non c'è niente non si può fare niente purtroppo le piante sono tutte rintanate fuori stagione magari queste le tiro dentro per quanto riguarda gli innesti così almeno riusciamo a vederli qua le piante sono cresciute più o meno secondo me ne vedremo di più molto di più la prossima volta ok allora facciamo un'altra composizione floreale ma io ho lasciato lo spazio devo lasciare il buco qui non mi ricordo se l'ho lasciato facciamo così non mi ricordo se l'ho lasciato ah c'è da piantare le cose nuove aspetta la begogna in primis che però ne abbiamo una e va bene così eccola qui la piantiamo qui vieni e pianta e poi dobbiamo piantare anche le nuove cose quindi qui cosa abbiamo la frutta e abbiamo la pianta di avocado però che va qua dietro magari aspetta qui c'è la pianta del denaro quindi lo piantiamo qua pianta poi cosa abbiamo il fagiolino e il fagiolino di soia e il fagiolino cioè il fagiolino di soia e il fagiolino qua abbiamo la verdura esatto qui invece ci spugno di mirtini sono cose un po' a caso poi dopo quando saranno cresciute ragazzi sistemerò tutto promesso allora il fagiolino lo piantiamo qua un po' in mezzo al passaggio però va bene e poi piantiamo anche questo e fertilizziamo soprattutto la begogna innaffiamo e fertilizziamo con il prezzemolo mentre lui sta facendo ah sta pulendo la doccia così a caso va bene ti mando a letto perché sono le due effettivamente domani insomma se vogliamo andare al mare bisogna alzarci un pochettino presto perfetto lei guardate ragazzi molto fiduciosa proprio va via col petto in fuori adoro vai pianta e innaffia cioè fertilizza con va bene anche la salvia e innaffia tutto benissimo ragazzi a questo punto direi che possiamo salutarci così spero che anche questo episodio vi sia piaciuto se è così fatemelo sapere con un like giù nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.